un Merci GTS questa è una Trax, modello nuovo in ralettamento perché c'è un regionale davanti in transito a Meleniano solita lunghezza, peccato per il sole che è proprio, non è il massimo sta andando a 660 grazie a tutti della visione e salve però la prossima volta devo cambiare stazione non posso fare sempre i video qui la prossima volta voglio andare a Travazzano lì passano anche i treni di notte che arrivano dalla linea veloce si mettono tramite il video piccino di Meleniano dalla linea veloce che è a 3000 volt tornano sulla linea storica che è a 3000 volt non possono proseguire perché da quel punto lì in poi la tensione passa a 25.000 volt alternata e possono percorrerla con la linea solito in altre città cioè quindi i pendolini di Italo l'Italo la GV e i frecciarossa 500 e 1000 grazie a tutti della visione salve